Che idea si è fatta di questa vicenda delle banche, boschi eccetera? Insomma, io non mi sono mai fidato delle banche, per cui non ho mai investito quattrini in operazioni di speculazioni. Credo che i soldi nostri sono quelli che spendiamo, quelli sono nostri. Quelli che depositiamo in banca sono in balina delle banche oppure del fisco. E allora, io dico a tutti spendete, spendete, quello che c'è, poco, tanto che sia, inutile tenerlo perché qualcuno te lo frega sempre. E le banche secondo me hanno imbrogliato, hanno truffato, sfruttando la fiducia dei clienti, ma i clienti ingolositi da interessi più elevati e quindi diciamo così nell'intento di speculare, hanno accettato le proposte truffaldine e questo dimostra che le banche sono governate da furfanti. Ma noi siamo tutti ignoranti che non riusciamo a distinguere l'investimento dal risparmio. Io i soldi me li guadagno col lavoro. Poi ho qualche preoccupazione per conservarli, perché se finisco in mano a questi bancari o banchieri, come vogliamo chiamare, rischiamo di rimanere, non so se si può dire in televisione, ma col culo per terra.